Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, scusate ma ho le cartacce dappertutto Ora faremo la quarta parte degli amici cucciolotti, andiamo ad aprirlo subito Allora, come cartolotta? Oh mio dio, sembra un peluche, questo qui Sembra un peluche più che un cane, scusate però è vero Allora, come carte abbiamo questa, che ve le dico tutte dopo Poi abbiamo questa, questo, sbrigati Questo, alce, questo, questo che è doppione, lo so di già E questo che ho di già Però mi manca la I, quindi la prendo lo stesso Almeno credo, vabbè non lo so, però controllo dopo E vabbè vi lascio il video Iniziamo ragazzi, però non vedo dove è il mio album Dov'è? Dov'è il mio album? Oh mio dio Oh mio dio Fortuna l'ho visto Allora, partiamo Ahia Da questo Qui Che è il doppio messaggio, sì Ed è questa figura, la farfallina E sono le finestrine, le finestrelle sul libro Sull'album, il libro, come la volete chiamare E andiamo a vedere dove è questo Ah, la farfalla Ok, la farfalla è qui Ora andiamo Non so se lo devo mettere qui Ah, ok, sì Ok, io e mamma sono contenta Perché questi sono difficili da trovare per me Sono difficili Allora, qui c'è scritto Allora Eh, di questo Ok, qui c'è scritto Prima regola Io ho sempre ragione Seconda regola Seconda regola Quella di dietro Nel caso avessi torto Rileggi la prima regola La focarina Comunque finora Uno, due, tre, quattro di questi Allora Poi abbiamo questo qui Che era numero 249 Con il disegno che devi colorare Quindi 249 Aspettate che lo cerco Questo Allora Poi abbiamo Questo qui Che c'è scritto Amici cucciolotti E' il sogno più sognato E dietro è così Ed è il numero 446 E' il sticker che brilla Questo che sta qui Poi abbiamo Questa Che è 400B 400A 400C 400D 450 No, 400 Pione Ora facciamo questa Bellissima Guardate Che è la 567 Dietro così Questa è la saggezza del gatto L'ultima 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 E' questo Che è la Che è Alce L'Alce 621 Ecco le domandine E vale 5 punti E vale 5 punti Questa qui Che è Chi Chi è Perché Perché Ok Le figure ne sono finite Io vi mando un grande Basile Vabbè Vabbè C'era questo Che non so In che episodio Era Che non l'ha Attaccato Comunque Era 241 L'ho vista Così Ma chi era questa Immagina Se ora Lo buttavo Io Non dico Vabbè ragazzi Il video E' finito Io vi mando Un grande Baccione Alla prossima Iscrivete Comentate E mettete Un like Ciao Fine Fine Le parti